Ben ritrovati con l'edizione della sera del TGL News, in primo piano la tragedia consumatasi nella primissima mattinata di ieri a Castel San Giovanni dove in una casa nei pressi di Fontana Pradosa una donna di 81 anni è morta nella sua stanza da letto a causa di un incendio divampato a quanto sembra per colpa di un mozzicone di sigaretta. Le fiamme non hanno concesso possibilità di fuga all'anziana visto il denso fumo sviluppatosi all'interno della stanza sul posto oltre agli operatori del 118 di Castel San Giovanni anche i visi del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Sempre ieri ma in tarda serata un cittadino di passaggio alle mose ha contattato il 112 per segnalare l'aggressione da parte di due uomini ai danni di una prostituta. I poliziotti al loro arrivo hanno notato una BMW che si allontanava, ne è nato quindi un inseguimento che ha coinvolto anche diverse auto dei carabinieri ed è terminato nel comune di Arena Po nel Pavese. A quel punto un poliziotto ha cercato di aprire la portiera dell'auto dei fuggiaschi ma il conducente ha accelerato e l'agente è rimasto ferito. L'auto è stata abbandonata poco distante, i due uomini sono fuggiti a piedi nei campi, sulla vettura sono stati poi trovati i documenti di due romeni. La donna non ha riportato fortunatamente conseguenze dalla presunta aggressione. Sono in corso le indagini. Un 41enne tunisino è stato sorpreso dai carabinieri all'interno dell'isola ecologica di Calendasco nella giornata di domenica. L'uomo è entrato con un complice dopo aver bucato la rete e stava caricando sull'auto materiale di svariato genere dal legno all'abbigliamento. Il 41enne è stato quindi arrestato dai carabinieri di San Nicolò mentre il complice è riuscito a fuggire durante l'identificazione. Chiudiamo con lo sport e con le trasmissioni di questa sera in onda su Telelibertà. Si comincia alle 20.05 con sotto rete la trasmissione dedicata alla Wix LPR Piacenza condotta dal giornalista Marcello Pollastri e si proseguirà poi con Zona Calcio in un'altra ricchissima puntata per approfondire le partite della domenica. Ospite illustre Togordo, autore della gol partita che ha consentito al Piacenza Calcio di spuntarla sull'Olbia. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento alle 19.30 con il TGL ma l'informazione continua sul nostro sito liberta.it